Ciao a tutti ragazzi bentornati su Freaks Italian e questo qua un tutorial su come migliorare lo scatto appunto la velocità Lo scatto è una componente essenziale della partita e ora andremo ad analizzare come migliorarlo Il primo consiglio che do è appunto di migliorare lo stretching cioè l'elasticità sia dei muscoli sia dei tendini A livello muscolare dobbiamo migliorare polpacci, quadricipiti e adduttori appunto per prevenire gli strappi Inoltre il tendine adduttore deve essere bello elastico con gli esercizi che andremo a vedere adesso Il secondo consiglio che do è appunto quello di correre sulla punta dei piedi Correre sulla punta dei piedi ci permetterà appunto di correre più rapidamente, più velocemente E di diminuire il tempo d'appoggio con il terreno grazie appunto alla superficie ridotta delle punte E questo ci permetterà di risparmiare tempo e quindi guadagnare metri Il terzo esercizio che andremo ad analizzare sono appunto i cosiddetti gradoni Questi gradoni sono fatti per migliorare il polpaccio, appunto la muscolatura del polpaccio E' per questo che prima abbiamo fatto lo stretching Perché il miglioramento e il rafforzamento di un muscolo deve essere proporzionale alla sua elasticità Quindi a crescere di una deve crescere anche l'altra Per migliorare l'esplosività Consiglio appunto lo skip alto e lo skip basso Questi sono esercizi che permettono appunto di farci partire più velocemente E di darci più rapidità durante la partenza Per migliorare l'esplosività Per migliorare l'esplosività Per migliorare l'esplosività